Sono 3.250.000 circa a cui si devono aggiungere, stiamo aspettando la quantificazione da parte di Invitalia, gli ulteriori fondi che residuano da uno dei bandi emessi in passato, quello in parteo di Invitalia, avevamo anche spesso contestato che erano fondi rimasti fermi perché gestiti a livello nazionale da Invitalia questi bandi non riuscivano a cogliere le specificità del territorio. Sono fondi che abbiamo recuperato grazie a un articolo inserito su nostra richiesta nel decreto legge 3, quello sulla ricostruzione che è stato uno dei primi atti appunto, il decreto legge 3, lo dice il numero stesso quanta priorità abbia avuto il tema della ricostruzione nel governo Meloni, che ringrazio perché ha ascoltato il territorio, abbiamo presentato, scritto noi con l'ufficio speciale guidato dal direttore Vincenzo Rivera, il testo di questa norma che ha consentito di recuperare fondi rimasti non utilizzati in avvisi e banditi per contributi negli anni precedenti e che oggi vengono rimessi a disposizione del territorio per sostenere le iniziative commerciali, industriali, artigianali e comunque economiche, con particolare attenzione verso i centri storici, data una premialità specifica a quanti riaprono all'interno dei comuni del cratere sismico delle attività nei centri storici che stanno soffrendo un forte depauperamento dopo il sisma. Presidente, quando è che vedremo i primi risultati? Io spero che presto, abbiamo dei precedenti che aiutano a capire qual è la dimensione dell'intervento e anche il tipo di effetto, il bando farecentro utilizzando i fondi Restart per il sisma 2009 all'Aquila ha riportato decine di realtà commerciali all'interno del centro storico, abbiamo un po' ripreso questo modello cercando di calarlo nella specifico contesto del sisma 2016 e quindi dell'altro cratere sismico, pensiamo di poter ottenere gli stessi risultati. Qui nel Piero Amaro ci sono diverse imprese come nella Val Vibrata che stanno chiudendo, ci si può muovere anche per questo aspetto? Val Vibrata è un'altra area fuori dal cratere sismico, lì c'è l'area di crisi complessa su quale ci siamo mossi, abbiamo recuperato parecchi milioni che erano stati stanziati negli anni passati ma che erano rimasti fermi, fermi perché chi ha gestito l'area di crisi complessa e quindi le politiche in quel periodo non ha evidentemente saputo cogliere la particolarità del territorio e su questo insieme alla Regione Marchi abbiamo riattivato questa politica dell'area di crisi complessa e credo che adesso ci sarà una gestione diversa di questi fondi e naturalmente dobbiamo attendere che maturino i tempi perché le proposte arrivino, perché i bandi vengano tutti emessi e si sta al lavoro per rilanciare anche quest'area.